pronti ops a tutti miei cari opsini e opsine ops a tutti, ops a tutti come state? spero molto 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 bene molto 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 bene oggi sono qui, qui, qui solo per poi, poi, poi per fare questo nuovo video SMR molto 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 semplice in realtà che spero anche di non far venire troppo troppo lungo perchè è un video corto in realtà cioè quel che devo fare è veramente poca roba perchè una settimana fa qua sono andato ad un centro commerciale e in un negozio che sono entrato dove sono entrato ho trovato ho trovato ben tre 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 trigger che ho assolutamente comprato e che volevo fare qua insieme a voi oggi anche se sono in maniche corte non ho freddo per adesso nel caso qualcuno se lo stesse domandando sono in casa al chiuso quindi non ho tanto freddo quindi prima di cominciare volevo chiedervi se lo sfondo rosso vi piaceva ho cambiato un attimino la candela perchè attualmente sto usando una candela rossa io mentre faccio i compiti eccetera eccetera e volevo metterla in più ho anche questa candela a forma di mela davvero carina davvero carina e ho pensato perché non aggiungerla e ho pensato ma possiamo la ok quindi sono le tre e un quarto di notte possiamo cominciare allora come primo trigger ho trovato questa spugna per lavare le pentoli in realtà con tutti questi filetti in gomma penso sia il materiale che fa questo solo qua quindi ditemi se vi piace mi che auguri oggi Grazie a tutti. Speriamo che non mi abbia spasato la luce. Speriamo che non mi abbia spasato la luce. Quindi ho tagliato tutto. Come sempre chiedo scusa se guardo un po' di volte di là, ma è sempre per controllare che il microfono stia registrando l'audio. Non mi abbia spasato la luce. Ancora qualche secondo e poi lo posiamo. Ok dai, questo lo mettiamo via. Anzi facciamo così. Lo appoggio di qua. Scrivetemi se vi è piaciuto, va bene? Adesso il secondo oggetto che ho comprato è proprio in tono per questo video. Ed è questa specie di spugnetta qua. Ha qua la parte per inserire la mano. Sarebbe una specie di scrub viso perché qua sopra è tutto ruvido ed è proprio questa ruvidezza, non lo so, a fare il nostro trigger. Quanto è bello, mamma mia. Che poi mi sono fatto crescere un po' di più le unghie questa settimana. Solo per poi poter riuscire a fare questo scratching. E un'altra cosa che vedrete dopo. Vedrete dopo. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è davvero 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 un bel suono. Grazie a tutti. È troppo, troppo lungo il video. Quinti. Quinti, quinti. Preparatevi al terzo trigger. Speriamo anche qua non mi abbia spasato la luce. Questa mascherina. Quinti. grazie a tutti è bellissimo sia questo suono di quando la schiacci che anche il tapping non so come dirlo non so come come sempre chiedo scusa se mi vedete troppo serio o troppo concentrato su un trigger comunque è così solo che l'ho provata addosso ma è scomodissima cioè è la cosa più scomoda che abbia mai messo in faccia mamma mia veramente ti schiaccia gli occhi poi è strana cioè non lo so poi magari sono io che trovo strano mettere le mascherine da notte ok 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 Grazie. Oopps. Quindi, intanto che ho questo trigger in mano, penso sia giunta, sia giunta. L'ora di darmi la buonanotte. Quindi, cucù, 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 cucù. Adesso tocca a voi. Iscrivetevi al canale qua sotto, se siete nuovi, per entrare a far parte della Oopps Community. E se siete dei maschietti, diventare i miei Opsini. Mentre se siete delle minucce, diventare i miei Opsini. Poi lasciate un bel mi piace. Se questo video qua sotto vi è piaciuto. Se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto. Tu, 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 tu. Quello che vi passa per la testa va bene? Quindi il video di oggi purtroppo finisce qua. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me. Insieme a me. Insieme a me. Io ti lascio di qua il mio video precedente. Di qua una mia playlist. E qua, 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 qua. Sullo schermo il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate, va bene? Quindi, buonanotte. 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 Un bacio. E noi ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. Buonanotte. Cardinista. Pra...